Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info Letteralmente Studio 3 Cristina da Firenze Poesia racconto del cuore Ballando con la vita E io sentii un respiro Era la sua anima che dopo anni di vessazioni, repressioni, frustrazioni Tornava libera Di piangere, di ridere, di divertirsi, di vivere la vita L'era stata data una seconda possibilità E lei non voleva sprecarla Aveva tanti anni da recuperare E l'adolescente che era in lei Voleva prepotentemente svelarsi Quindi si buttò nella vita Con il cuore, con l'anima, con tutto il suo essere Le delusioni non mancarno Ma quella piccola donna non voleva rinunciare ai suoi sogni Proseguì con capabilità il cammino Piano piano il sole le illuminò la via E il suo desiderio si avverò Il�� Il nostroんですio